Abbiamo predisposto, sono in corso di discussione, di approvazione dei disegni di legge per quanto riguarda la cittadinanza che riduce a 5 anni il tempo necessario, si dovrebbe riuscire a togliere via nel percorso parlamentare il requisito di reddito quindi diciamo di togliere una cosa che giustamente è stata considerata un ostacolo sbagliato da parte di chi ha criticato quel provvedimento da chi l'ha criticato da sinistra perché c'è anche stata una certa critica da destra che ha avuto una certa qual risonanza e mi sembra di poter dire che siamo arrivati ad un accordo sul fatto che si faccia la legge sul diritto di voto alle amministrative per gli immigrati sulla base del recepimento delle convinzioni europee su questo c'è stata una discussione su che tipo di caratteristica dovesse avere una legge per poter essere una legge costituzionalmente valida per il voto agli immigrati, c'è chi sosteneva ci volesse una legge costituzionale alla fine mi pare di poter dire che siamo arrivati ad una quadra e che quindi nel prossimo periodo si dovrebbe poter attraverso il recepimento della Convenzione europea di arrivare al voto sugli immigrati. Quindi diritti civili. Secondo capitolo. Sui diritti civili aggiungo una cosa. Per quanto mi riguarda anche questo come noto e oggetto di discussione, io penso che sulla cittadinanza si è molto discusso esame, non esame, che cos'è l'esame e avanti. Io penso questo, che come sempre il punto non è tanto l'esame quanto il percorso con cui si arriva al momento. Io considero positivo che ci possa essere una cerimonia in cui c'è la questione della cittadinanza e secondo me l'oggetto, diciamo, di questo, del percorso della cittadinanza è il percorso di poter imparare la lingua e l'accettazione della Costituzione, in particolare della prima parte della Costituzione, essendo che su altre parti della Costituzione anche io avrei da ridire, diciamola così, titolo quinto, alcune modifiche, diciamo, fatte dal mio punto di vista non eccellenti. Ma, però la prima parte invece sì, perché la prima parte è quella che regola la convivenza civile nel Paese e il fatto che banalmente siamo qui stamattina a discutere e si può discutere anche tra opinioni diverse senza pestarsi. Secondo me queste due sono i punti. La lingua è la prima parte della Costituzione. Per il resto, come dice la Bibbia, dice il tuo sì sia sì, il tuo no sia no, perché tutto il resto viene dal maligno. Secondo me tutto il resto viene dal maligno, nel senso che qualsiasi discussione su codici etici, cose che definiscano dei modelli culturali come punto di rimente per l'essere cittadini italiani, o meno, secondo me viene dal maligno, cioè è proprio un errore. Mia nonna girava col fular, mia figlia gira con la minigonna, sono italiane tutte e due, certo avevano idee, avevano perché mia nonna è morta, ma insomma idee molto diverse. Questo non ha mai fatto problema per poter essere cittadini italiani, credo non lo debba fare oggi. Ovviamente quando dico prima parte della Costituzione intendo parità di diritti uomini e donne, insomma intendo tutte le cose che ci sono lì dentro, ed è molto, non è poco, però non può diventare uno stato etico la concessione della cittadinanza a qualcuno che non è nato qui. Non può avere caratteristiche da stato etico dal mio punto di vista e quindi deve essere fermissimo sugli elementi dei diritti ma non sbrodolare in altre cose.